Oggi parleremo di 1 maggio 2022, allarme inflazione, i medici che mancano. Ci ritroviamo dopo la pubblicità. Essere ascoltati. Trovare vicinanza. Difesa dei tuoi diritti. L'assistenza di professionisti in grado di risolvere i tuoi problemi. SPI CGL. Ogni giorno a tua disposizione, nelle sedi in tutta la provincia e in particolare in questo momento anche con la modalità telefonica. SPI CGL. L'ascolto. Una risposta. Ben ritrovati con l'informazione del sindacato dei pensionati della CGL. Primo maggio a Feltre. Un modo di raccontare il mondo che sta osservando. Quello di Fernanda Paoletti, autrice di Biscolò. Preciso, netto, sensibile e affettuoso. Un modo di osservare e di descrivere luoghi, persone, personaggi. Pensiamo alla regina nomade. Così intenso, accorto, immediato. Che si riscontra nelle pagine e che incanta. I brani Era una sera d'inverno, La regina nomade, Leggerbere e Tagore sono stati letti da Silvana Vignaga, un'artista che interpreta con la lettura i lavori letterari immedesimandosi nel protagonista, portandoci a seguirlo come se fosse con noi. Paola Scappin, autrice di poesie, tante, scritte, messe nel web. Poesie che si leggono con profonda emozione, righe che rivelano la passione per l'amato, il dolore senza fine, il lutto estremo, la vita vera, smaliziata, esperta, rivissuta nel ricordo, nell'assenza, nella sofferenza. Questa è stata la festa dei lavoratori e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Chi scrive per diletto o per professione, poco importa. Alla fine esercita un lavoro, un'arte, quello del letterato, della scrittrice, della poetessa e anche della fotografia. E per il tempo che stiamo vivendo così cupo che ci tiene in tensione, il loro lavoro è stato prezioso. Come sono state preziose le foto di Giancarla Tazzari, pacate, suggestive, in equilibrio con il personaggio gelido e lo spettacolo della luce, hanno composto l'atmosfera delle emozioni che tanti, davvero tanti e tante, hanno potuto respirare in sala donne della resistenza dello spicci GL di Feltre. Allarme inflazione Se la situazione generale non dovesse peggiorare, l'economia italiana quest'anno dovrebbe segnare un 2,2% di aumento e saremo già due punti in meno di quanto si prevedeva due mesi fa. Quello che preoccupa è l'aumento improvviso dell'inflazione, già vicina al 7%. Questo significa che se i salari più bassi non crescono, avremo un pezzo del mondo del lavoro che sprofonda nella povertà. La quota di ricchezza che finisce al lavoro è la vera emergenza nazionale. La previsione ISTAT per il 2022 è che i lavoratori perderanno 5 punti di potere di acquisto e saranno soprattutto loro a pagare il caro energia. Il governo avrebbe si approvato un intervento per aumentare, oltre a quanto previsto nell'ultima finanziaria, lo sconto fiscale in busta paga. Però, stando all'attuale situazione, risulterebbe del tutto insufficiente. Il ministro Orlando avrebbe lanciato la proposta di sostenere le imprese che rinnovano i contratti e aumentano i salari, ma si è attirato contro le furiose polemiche della Confindustria. Il ministro aveva proposto di fare un accordo per garantire che le risorse che arrivano alle imprese vadano a finire in parte sui salari, sostenendo magari con incentivi differenziati le imprese che rinnovano i contratti. Intanto che si discute, l'ultimo rapporto Censys certifica appunto che in Italia il valore degli stipendi è crollato in dieci anni dell'8,3% e sono aumentati i lavoratori che vivono sotto la soglia di povertà. Parliamo di Europa. Cosa succede? Il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia in piena guerra ucraina si sta rilevando assai controverso. Tra le misure in discussione tra i paesi della UE anche sanzioni contro il patriarca ortodosso di Mosca, Kirill. Contrari, l'Ungheria. Nella sua forma attuale il pacchetto di sanzioni di Bruxelles non può essere sostenuto, non possiamo responsabilmente votarlo, ha detto il ministro degli esteri ungherese. Poche ore prima, a Strasburgo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva descritto ai deputati la proposta comunitaria e cioè prevedere un embargo graduale del petrolio russo proveniente via mare e via oleodotto, greggio e raffinato. Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, lo stesso pacchetto prevede per la Slovacchia e l'Ungheria di allungare la moratoria fino alla fine del 2023. I due paesi però hanno spiegato che ciò non era sufficiente. L'unità dei 27 è in pericolo, tanto l'energia è un settore delicato. Medici nel Veneto, mancano o sono troppi? Nel Veneto circa l'8% dei cittadini è senza il medico di famiglia e nelle diverse strutture mancano 1.200 medici e oltre 3.000 tra infermieri, tecnici, operatori e sociosanitari. Luciano Flor, direttore generale della Sanità Veneta, afferma che il problema esiste anche perché i concorsi vanno deserti. Basta pensare che per gli ultimi tre concorsi per incarichi di pronto soccorso si sono fatti avanti 89 dottori a fronte di 360 posti. In questo contesto non riusciamo a capire quanto affermato qualche giorno fa dal governatore Zaia. Ha ribadito infatti che in Veneto va tutto per il meglio, anzi che ci sono 85 medici di troppo. Il presidente Zaia forse conosce una situazione che agli altri sfugge oppure ha evitato deliberatamente di negare i problemi in cui naviga la Sanità Veneta. Guerra. Sia alle notizie, no all'orrore. La guerra va raccontata senza censure, cioè senza nascondere niente di quello che succede, ma con umanità e professionalità, evitando lo spettacolo dell'orrore. Lo ricorda il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ai suoi iscritti, i giornalisti appunto, che in queste settimane di guerra hanno usato ed abusato delle immagini dal fronte. In alcuni casi c'è stato perfino l'utilizzo di immagini che niente avevano a che fare con il fronte ucraino, con scene riprese da filmati dei videogiochi. Il richiamo del CNOG è indirizzato soprattutto ai direttori delle grandi testate e in particolare di quelle televisive. Abbiamo rispetto, è il succo del discorso. Rispetto di chi? Delle vittime. Perché riempire le pagine dei giornali, dei servizi, dei TG1, di corpi straziati? Che in guerra si muore lo sanno tutti e quelle immagini crude e superflue aggiungono violenza a violenza. Bisogna avere rispetto dei protagonisti. Basta foto e video di donne e bambini in lacrime. Bisogna avere rispetto anche dei lettori e dei telespettatori. Tagliare le immagini più raccapriccianti non significa nascondere le notizie. Il bisogno di capire quel che sta succedendo non è aiutato dalla spettacolarità delle immagini. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti raccomanda un percorso preciso. Verifica sostanziale dei fatti, verifica delle fonti, moderazione nell'uso del linguaggio e delle immagini. Non è così difficile. Milioni di cittadini marginalizzati. Il progresso e l'impiego di nuovi sistemi operativi è inarrestabile. Però dobbiamo constatare che ad ogni accelerata della tecnorivoluzione, milioni di italiani sono sempre più spinti fuori dai circuiti vitali degli scambi, dei servizi, delle relazioni sociali. Ormai è necessario avere a casa un computer, uno smartphone possibilmente di ultima generazione, essere pratici a scaricare le applicazioni, eccetera, eccetera. La necessità, ad esempio, di accedere alle informazioni dell'Inps richiede il famoso SPID, per avere il quale, senza avere la nuova carta d'identità con relativo codice rilasciato dal comune, oppure passare dalla posta ed iniziare un iter tortuoso e pagare una tassa da casa con carta di credito. Anche per scaricare da casa il certificato di esenzione dal ticket per reddito, serve introdurre nel sistema dati riconducibili solo alla vecchia tessera sanitaria. Per richiedere l'accessione del quinto all'Inps bisogna avere particolare dimestichezza per fornire tutti i dati richiesti dall'ente. In generale, ormai, tutti gli enti non lavorano più allo sportello, ma indirizzano tutti ad usare il computer o inviano il cittadino al patronato. Il problema di questo disagio crescente non sembra ben compreso dalle istituzioni e dalla classe politica. Gli analfabeti informatici verrebbero così definitivamente marginati dalla società. E non è spaventoso questo darwinismo sociale? Il primo maggio a Belluno, al Parco Città di Bologna, anche i pensionati hanno espresso le proprie preoccupazioni, quelle sul lavoro dei propri figli e nipoti, per un lavoro che possa valorizzare le loro attitudini e che metta tutti in buone condizioni economiche. E non ultimo un lavoro che si riversi poi in pensioni che sostengano un tenore di vita adeguato. Il lavoro precario che la nostra generazione non ha incrociato così frequentemente non vorremmo che fosse una soluzione sistemica. Allo stesso modo, e anche con più forza, vogliamo che sia assicurata la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Vogliamo che il miglioramento della prevenzione sia esteso, incisivo, efficace. Nel nostro Paese c'è un'enorme questione salariale. I lavoratori guadagnano troppo poco e il loro reddito andrebbe sostenuto e non compresso, come invece vorrebbe qualcuno dalle parti di Confindustria e del Governo. I pensionati pagano più tasse di tutti e in questi anni gli interventi fiscali che sono stati adottati non hanno fatto altro che allargare a dismisura la forbice fra i redditi. In questo momento così tragico tra la guerra, la pandemia e l'inflazione, la crisi ci colpisse severamente. Il caro bollette è un affanno per le famiglie. A pagare questo prezzo sono gli anziani che permangono per più tempo in casa, hanno bisogno di più calore d'inverno ed estate, distanze raffrescate. Un salasso accentuato anche da altre bolle inflazionistiche che vanno a pesare sul carrello della spesa. Sarebbe necessario ampliare la platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità, quella quota aggiuntiva che viene erogata a luglio per coloro che hanno pensioni da lavoro molto basse. Ora, la tassazione sugli extra profitti delle imprese che operano nel settore dell'energia ha salita al 25% con la decisione del governo, va bene, magari poteva essere più alta. Il governo in parte comunque ci ha ascoltato. Ci sono anche altre imprese però che hanno avuto extra profitti durante la pandemia. Dobbiamo fare un'operazione di redistribuzione e modificare il sistema del prelievo fiscale del nostro Paese. Non è possibile che pensioni e lavoro dipendente siano tassati più delle rendite finanziarie. Il bonus di 200 euro che arriverà a 28 milioni di italiani con gli introiti appunto di questa tassazione e degli extra profitto è un piccolo sollievo, ma bisognerebbe fare uno sforzo maggiore. Siccome l'inflazione è alta, non può che essere il primo passo per sostenere un anno complicatissimo. Questa è la nostra storia. Continua la raccolta di fotografie e documenti ricordi dagli anni 50 ad oggi. In vista del congresso 2022, lo Spicigelle di Belluno sta realizzando una pubblicazione intitolata Questa è la nostra storia. Una raccolta di testimonianze, ricordi e fotografie su tre grandi temi sociali emigrazione, lavoro e ambiente, in particolare l'alluvione del 1966. Chi ha una storia o una vecchia foto da condividere può partecipare a questo racconto collettivo del territorio di Belluno contattando la referente Franca Mosca al 328 271 2269 entro il 25 maggio 2022. Termina qui il nostro notiziario. Vi ringraziamo dell'ascolto e ci ritroviamo fra 15 giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.